Aveva 25 anni il ragazzo morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Sansevero alla periferia di Foggia. La vittima, secondo la prima ricostruzione della polizia locale, era a bordo di una motocicletta che per cause ancora da accertare si è scontrata frontalmente con un'automobile che procedeva in senso opposto. Il centauro Antonio Pio di Bari è morto sul colpo. A nulla sono valse infatti gli interventi dei medici del 118 intervenuti pochi minuti dopo in via Sansevero. L'uomo che era alla guida dell'auto, un alfamito, ha riportato lievi feriti ed è stato medicato sul posto. A causa degli incidenti il tratto di strada è stato interdetto la circolazione per alcune ore per i rilievi delle forze dell'ordine e anche per rimuovere dall'asfaltio i rottami della motocicletta.